Grazie, 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 ragazze, non puoi attrazzare le opere di un amico, perché mi ha chiamato in anteprima, è un grande ambasciatore della calattria, anche Gerardo Sacco, maestro orafo di Protone, molto molto bravo, conosciuto, apprezzato, e loro con un modo di attenzare, diciamo, un romaggio. Niente, io ringrazio l'amministrazione comunale, ringrazio il sindaco per queste parole, cosa devo dire? Che aggiungere solo una piccola cosa ai ragazzi, alcuni li ho visti da due anni, tre o quattro anni, di qua, di anziani Martinelli che andavano, ricordo che l'estate io non c'ero, e quindi Catanzaro, come pensapete, si dice, lo faccio io, no, un monto di un film, si piange quando si arriva, perché uno arriva e dice, no, non sono arrivato, e si piange quando si va via, perché noi di Catanzaro ci mettiamo il cuore, ci mettiamo l'anima, siamo tutte persone molto passionali, e le persone passionali dovranno sapere, credo che stiamo pensando, sono delle persone, e su questo, credo che noi, Catanzaro, potremmo essere maestri, e diciamo, da quel punto di vista. Conso tutto il discorso, grazie a tutti.